Avrebbero gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali, trasportandoli e incendiandoli illecitamente nelle campagne di San Severo, a Precena, Torre Maggiore e Foggia, con le accuse di traffico incendio di rifiuti, realizzazione e gestione di discariche abusive, arrestati dai carabinieri del Nuo e Nucleo Operativo Ecologico di Bari, l'imprenditore Roberto Marino di 42 anni e due braccianti agricoli Celestino Magnatta, 68 anni, e Angelo Barbera di 48. I tre, che hanno precedenti penali per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti contro il patrimonio e la truffa, lesioni e minacce, oltre che reati ambientali specifici come la gestione illecita proprio dei rifiuti speciali, sarebbero ritenuti elementi di spicco della criminalità foggiana. L'operazione odierna è la costola del blitz denominato Black Fire dell'agosto 2017, quando venne arrestato Roberto Marino, l'amministratore di due società di gestione di rifiuti speciali di Sansevero, l'autotrasporti Marino Roberto e Marino SRL. Secondo l'accusa, i rifiuti speciali in balle, per lo più composti da materiale plastico indifferenziato, provenienti dall'arcolta differenziata effettuata nei comuni del Capologo Dauno, dopo essere stati raccolti, invece di essere conferiti nelle discariche autorizzate con il favore della notte, sono stati trasportati e abbandonati su terreni coltivati e dati alle fiamme, oppure trasportati e stoccati per qualche settimana presso capannoni abbandonati occupati abusivamente per poi essere completamente incendiati. Nella stessa operazione sono stati posti sigili a un'intera azienda per la gestione rifiuti, conti correnti bancari e automezzi pesanti per un valore totale di 1.500.000 euro, i cui preventi verranno utilizzati per riparare il danno ambientale. Incalcolabile invece rimane il danno alla salute per tutti i cittadini, costretti a respirare residui di combustione incontrollata di rifiuti.